Salve a tutti amici, in questo video vediamo come installare Ubuntu 14.10 ed eliminare eventualmente un sistema operativo preesistente, potrebbe essere Windows o qualche altra cosa. Quindi se invece siete interessati a installare Ubuntu 14.10 a fianco di Windows con un menu in dual boot che vi consenta di scegliere cosa avviare quando accendete il computer, andate in descrizione e troverete il link con quel video spiegazione sempre su Ubuntu 14.10. Allora iniziamo, essendo in virtuale ho un menu leggermente diverso da quello vostro, semplicemente io devo cliccare qua su install Ubuntu, voi avete comunque anche voi installa Ubuntu in italiano o in inglese, quindi cliccate con Enter. Da questo punto in poi l'installazione sarà uguale alla vostra. Quindi aspettiamo l'avvio. Ed ecco qua, dobbiamo scegliere la lingua, andiamo quindi su italiano, facciamo avanti. Ci dice che dobbiamo avere almeno 7,1 GB di spazio libero, possiamo scegliere se scaricare gli aggiornamenti durante l'installazione e il software di terze parti, se abbiamo la linea internet già collegata potete scegliere se farla adesso oppure in un secondo momento, se lo fate adesso avrete un'installazione più lenta, io infatti a questo proposito evito di spuntare per questo video. Facciamo avanti. Ed eccoci alla schermata principale, quella che sarà vitale per l'installazione di Ubuntu. Allora noi andiamo su altro e facciamo avanti. Allora qua abbiamo due partizioni NTFS su un unico hard disk SDA che si suddivide appunto in 1 e 2 perché sono due partizioni diverse. Io come ho detto prima in questo video mi concentro sul cancellare quello che c'era prima, quindi eliminerò queste due partizioni. Attenzione perché se siete su un portatile e avete una partizione nascosta, là dentro probabilmente ci saranno tutti quei file che vi consentono di ripristinare Windows in caso voi lo vogliate, quindi il classico sistema operativo che voi avete acquistato. Quindi vi conviene semplicemente eliminare la partizione dove ci sono tutti i dati di Windows, non quella lì, che in questo caso è quella più grossa, questa qua. Da 26 GB nel mio caso, ma nel vostro caso sarà sicuramente centinaia di GB. Come la cancelliamo? Facendo meno. E diventerà spazio libero. Nel mio caso, essendo in virtuale o comunque avendo un fisso non mi interessa, facciamo meno e cancelliamo anche la prima, quindi facciamo una cosa pulita. Adesso il nostro hard disk è del tutto pulito, quindi possiamo andare qui. Attenzione, le modifiche non sono ancora state scritte in realtà, se facciamo indietro annulliamo tutto quanto. Ma adesso facciamo la scrittura delle modifiche, quindi facciamo più e facciamo le nostre partizioni per Linux. Prima di tutto facciamo l'area di swap che serve, è una cache. Come nell'altro video consiglio più o meno 4000 MB, una cifra più o meno fissa che secondo me va bene come era di swap. È una partizione che voi non vedrete nel sistema, ma è necessaria al corretto funzionamento di Ubuntu. Mettiamo primaria, inizio di questo spazio, facciamo ok. Adesso riclicchiamo sullo spazio libero, facciamo più, lasciamo tutto quello che c'è dentro, quindi tutto il resto del nostro spazio libero, ancora primaria. Inizio di questo spazio, qua possiamo scegliere o X4 o X3, consiglio X3. Punto di mount, facciamo lo slash, quindi lasciamo questo così com'è, facciamo ok. Ok, e siamo a posto così, abbiamo deciso le due partizioni principali e essenziali di Ubuntu. Assicuratevi che ci sia spuntato formattare e andiamo a fare installa. Quindi avanti. Scegliamo il fuso orario, Roma va bene, avanti. E scegliamo la tastiera, italian, italian. A questo punto il vostro nome, il nome del computer, va bene così nel mio caso, e la password che vi servirà per tutte le varie operazioni su Ubuntu. Quindi mi raccomando, una password importante. Potete scegliere se accedere automaticamente all'avvio con questa password oppure fare in modo che la richieda ogni volta. Facciamo avanti, io metto accedi automaticamente. E adesso inizia l'installazione vera e propria di Ubuntu. Mando avanti il video. L'installazione è completata, adesso facciamo riavvia ora. Togliamo appena ce lo chiede il nostro supporto cd o la chiavetta, se no ripartirebbe l'installazione, ovviamente. Ecco qua, quindi togliamo tutto e poi premiamo enter. Ed ecco qua, allora io non ho la funzionalità memtest semplicemente perché l'ho installato in virtuale, quindi non posso vedere altre cose se non Ubuntu. Quindi voi avrete semplicemente memtest e Ubuntu, quindi per avviarlo invio. E adesso vediamo se tutto funziona correttamente. Quindi aspettiamo il primo avvio con login automatico. Ok, ci siamo quasi. Quindi in sostanza l'installazione è andata a buon fine. Ok, ci siamo. Ecco qua, funziona tutto correttamente, quindi a posto. Un saluto a tutti.